lancio del peso parliamo del lancio del peso gli atleti che praticano questa disciplina sono grossi come armati hanno una sfera d'acciaio e un sacchetto pieno di gesso ma cosa se ne fanno si cosparcono le mani di gesso per evitare che la sfera gli cada sui piedi si concentrano qualche secondo una pedana circolare di colpo iniziano a girare come un tornado per prendere velocità e scagliare la sfera il più lontano possibile una cosa semplice no bene oggi tu più campioni vincerai la medaglia d'oro di lancio del peso ricapitoliamo per fare del maiale un vero campione di lancio del peso lo portiamo all'una parte e gli compriamo un biglietto per la supergiostra vorticosa girerà per un'ora senza sosta su una velocità pazzesca se quando scenderà sarà capaci di lanciare il peso allora potrà gareggiare altrimenti altre giro altra si mette una ghianda gigantesca sul campo di gara ad una distanza superiore al record del mondo e poi si spiega al maiale che l'unico modo per scusciare la superghianda è quello di colpirla con una sfera d'acciaio miau guardate ha capito il volo afferra la sfera entra nella pedana e inizia a girare come una trattola primo giro secondo giro terzo giro e guarda che lancio va lontano lontano supera i 10 metri supera i 20 e cade esattamente sulla ghianda ma attenzione il guscio si apre e svela una ghianda d'oro e il nuovo record si è un campione il mio campione bravo bravo sarò fiero del mio maiale sarò un grande allenatore bene mio caro maiale quale sarà la tua prossima medaglia d'oro grazie a tutti